aprire un ristorante vegetariano è il business del momento michelle de best uno dei più importanti critici culinari francesi a michelle de best piace la carne noi gli daremo la carne ma che stai a dire zucchino cavolo nero raperus si vedono anche molti molti animali in questo film avete lavorato molto insomma c'è stato un sacco di animali sì sì ma questo è un film anche per ragazzini e tendiamoci perché questo in qualche modo questo film verte proprio nel sensibilizzare i bambini ad avere rispetto e amore per gli animali quindi col nostro modo casinista che c'è nel film però poi il messaggio è quello quindi io dico veramente tutte le famiglie portate i bambini perché i bambini possono vederlo anzi dovrebbero vederlo perché in base anche agli ultimi studi fatti sul bullismo nelle scuole cioè i bambini che imparano amare gli animali da piccoli difficilmente sono tendenti poi ad atti di bullismo nelle scuole poi non è capitato di essere in sala e in sala c'erano tanti bambini siamo stati sabato pomeriggio in sala a vedere il film con una serie di persone che il film è dedicato alla fine c'è una dedica e quindi la sorellina è venuta a trovarci dalla sicilia e abbiamo visto il film con lei e in sala essendo pomeriggio c'erano tanti bambini e ci siamo resi conto che piace molto tu pensa che quando c'è stato l'intervallo i bambini hanno detto no e quindi lì abbiamo capito che questo film piace molto ai bambini è bello anche perché questa è una commedia che non segue il classico mainstream filone mainstream della commedia italiana no perché è un po il problema anche del cinema attuale no perché si va anche meno al cinema probabilmente perché le commedie sono tutte un po uguali l'uno all'altra no in italia c'è questa tendenza da un po di tempo e la cosa bella è che anzi forse è anche un invito ad andare al cinema per vedere magari ecco da un'altra prospettiva qualcosa di un po di diverso per quello dicevo commedia francese perché comunque magari ecco si può vedere qualcosa di di differente totalmente diverso anche perché noi due abbiamo detto se proprio dobbiamo iniziare questa avventura che ci mettiamo a fare quello che hanno già fatto gli altri percorso alla grande la stragrande ci siamo inventati un'altra cosa un altro stile devo dire che da quello che scrivono da quello che abbiamo letto in questi giorni anche dalla risposta al cinema perché l'abbiamo visto nella quotidianità e questo film apprezzato tanto e ringraziamo tutti quelli che hanno speso una buona parola per questo progetto perché veramente un film che nella sua semplicità è rivoluzionario quindi spero che continui assolutamente il corso di questa settimana infatti voglio proprio ringraziare grazie veramente perché avete fatto un film che che con amore con un sorriso e con gentilezza con una grande grazia parla di animali parla veramente a tutti non esclude nessuno non accusa nessuno ed è un film che fa bene al cuore grazie però forse saremmo noi a doverti ringraziare perché questo film l'abbiamo scritto pensando a te lo sai quel personaggio noi subito proprio mentre scrivevamo ci siamo detti è Loredana perché Loredana è lei cioè noi abbiamo cercato di essere il più veri possibile cioè di prendere persone che nella vita non voglio dire che Omar è quello che vedi lì però abbiamo cercato di prendere per quanto per quanto possibile di renderli più simili possibile più simili possibile quindi cercavamo persone che potessero essere più o meno loro stessi e lei è proprio quella vera che tu vedi sul film e quindi mentre scrivevamo tutti i dettagli della sua delle sue scene erano scritti proprio su di lei quindi grazie lo dobbiamo dire anche a Loredana grazie grazie ma va veramente sarà un bel gruppo di lavoro a trovarne sempre nei set perché stavamo tranquilli ci divertivamo cioè si andava a lavorare anche sotto la pioggia di notte però eravamo sempre col sorriso no ma viva veramente avete inventato una cosa grossa e a chi lo dovete tutto questo? a me perché a voi due l'ho inventato io truffatori, delinquenti, vi fate schifo? no ma questa volta sono cazzi vostri eh? e ne potete pure morire grazie a tutti grazie a tutti